Ciao a tutti amici, sono io, Julia War, e oggi sono qui per recensire Paura di Inside Out. Sinceramente un po', anzi molto, mi dispiace che le bambole siano finite. Certo non è che possono fare tantissime bambole, magari una bambola che ha una cosa in particolare, poi un'altra, insomma, eccetera, eccetera. Però all'inizio devo dire che queste bambole le trovavo così carine, ma non è che pensassi che fossero chissà che le bambole più belle al mondo. Ma devo dire, e devo essere sincera, che dopo aver visto il film, insomma, mi sono innamorata di Inside Out, perché ho capito il vero significato, quindi ancora oggi le consiglio. Ormai il film è uscito da un po', vi chiedo anche scusa per la mia voce, ma ho mal di gole e sono raffreddata, ma insomma io vi continuo a consigliare di vederlo, di guardarlo, perché è bellissimo. Inoltre ho scoperto che Inside Out significa dentro fuori, me l'ha detto la mia professoressa d'inglese, e infatti quindi noi le emozioni che abbiamo dentro dobbiamo uscire a tirarle fuori, diciamo che questo sarebbe un po' il significato. Ma adesso iniziamo subito, ovviamente i saluti saranno alla fine. Allora, come possiamo notare, la scatola è sempre di questo blu luccicante elettrico, quasi un po' rovinata, ma fa niente. Poi c'è 3+, quindi dai 3 anni in su si può giocare, e Disney Store, visto che è un'esclusiva del Disney Store. Qua dice, Disney Pixar Inside Out, Deluxe Talking Fear, quindi fear significa paura, ed è la versione appunto che parla e si illumina la faccia. Poi c'è questo fantastico artwork di paura, non è adorabile, quasi mi dispiace che ha sempre paura, e si ritrova anche da questi lati. Notare che tra un lato e l'altro addirittura cambia, non era successo e nelle altre scatole, diciamo che paura è un po' unico per questo fatto. Appoglio ovviamente questi buchi per sentire meglio, infatti se noi premiamo, la faccia si illumina. Poi ovviamente ci ricorda che c'è la sfera dei ricordi, e ci dice anche di premere la mano. Dietro ci mostra un artwork di paura, gli altri 4 personaggi, poi dice 10 frasi, e io ancora non le ho sentite tutte, quindi non so quanto siano lunghe, ma poi le sentiremo ovviamente dopo il The Box. Ovviamente la sfera è che la faccia si illumina, poi ovviamente il prezzo è sempre 20,90. Ci mostra tutti i personaggi, paura, rabbia, disgusto, tristezza e gioia. Bene, apriamoli, come al solito non è semplicissimo aprire queste scatole, quindi in bocca al lupo, a me! Bene, ok, per aprire paura ci avrò impiegato non lo so quanto, notare le mie dita che sono anche diventate un po' rosse per quanto ho dovuto tagliare ovviamente i fili, quelli twisti sapete di metallo. Ma insomma, ce l'ho fatta, adesso sentiremo appunto paura. Ok, back to work, everyone. Oh, I'm so jumpy, my nerves are shot! Sure, it's the coward's way out, but this coward's gonna survive! Easy, easy, huh? Bye, back! Oh, we're good, we're good. bene queste erano le sue dieci frasi adesso vediamo meglio tutto quello che arriva con lui ovvero la sfera e basta ho messo ovviamente un'immagine di paura quella che arrivava eccola e per il resto è così dice di mettere una immagine di quando eravate impauriti ma io non penso di avercele quindi ho deciso di mettere questa paura dovrebbe rimanere in piedi da solo però dovete proprio tenerlo con la schiena curva oppure dritta in modo tale che le mani stiano in un certo modo quindi uno fa prima ad appoggiarlo ad appoggiarlo quindi adesso togliamo la scatola che tra l'altro è stato il più difficile da togliere ma ok adesso vediamolo meglio prima lo spengo perché altrimenti mentre lo recensisco fa l'inferno ogni volta vedete io le spengo tutte anche per non consumare le batterie come possiamo notare è viola tutto viola completamente viola notare la sua fantastica faccia con questo suo naso abbastanza lungo già mi ricorda quello di Squiddy del povero Squiddy ucciso da Lorenzo già ha poi questi occhi che sono grigi e viola e sono strabici già poi le sue sopracciglia che sembrano così brillantinate ma non lo sono e il suo capello che tra l'altro è abbastanza molle e insomma poi per quanto riguarda le parti bendable bello è la testa ma non si muove di 360 gradi solo un po' vedete così è giusto questo io lo tengo così poi ovviamente all'anca al gomito al polso al polso ovviamente solo una mano perché l'altra dice le frasi poi qua ovviamente il buco per tenere la sfera ma penso che non la tenga bene come rabbia cioè se l'appoggiamo vedete o la fa cadere oppure proprio si gira la mano ma poi ovviamente è bendable all'anca e per il resto non è più bendable da altre parti tipo al ginocchio no andando avanti ha questo maglioncino molto bello carino giallo di questo giallo diciamo un po' opaco e nero sul grigio vedete con anche un bel fiocchetto rosso e poi questa camicia bianca e azzurra si può anche aprire qua vedete proprio come se fosse una vera camicia e questa idea mi piace molto ecco si toglie ovviamente tutto da dietro poi ha i suoi pantaloncini viola che per noi sarebbero pantaloncini ma per lui sono più che lunghi visto che ha il busto molto lungo e poi le gambine minuscole vabbè adesso si vede un po' di pancia e poi ha le sue scarpe che purtroppo sono dipinte ma sono fantastiche proprio queste lo tengono più o meno in piedi bene spero che questo video vi sia piaciuto non mi sorabbia come se stesse scappando da un qualcosa di terrificante magari un ragno anche io ho paura dei ragni ma ok va bene insomma sono molto felice di aver acquistato le bambole di Inside Out certo un po' mi dispiace è finita qui per adesso magari trovo qualcos'altro da recensire di Inside Out voi continuate a consigliarmi le cose qua sotto nei commenti ci vediamo al prossimo video presto recensirò anche quella cosa di Frozen e farò anche le nuove puntate di Edicola e qualche libro beh noi ci vediamo ciao ragazzi quasi dimenticavo dei saluti allora oggi voglio salutare Katib Kayalar scusate se non si pronuncia così poi Martina Falcini Franca Palato Francesco Merlino Massimo Fiore e sua figlia Giorgia Alice Giacovelli e il suo canale Ed Edvig MLP bene spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo alla prossima quindi ciao